Chiarezza ma anche uno sfogo sugli attacchi che sono arrivati dal caso della casa di riposo di Cingoli? Sì, chiarezza rispetto agli attacchi inauditi, fuori luogo, falsi, che il sindaco e il vice sindaco fanno continuamente tutti i giorni su questa situazione. Questo è lo sfogo. E poi, se volessero, io sono pronto a un confronto anche pubblico su queste questioni, sui coronavirus, sull'ospedale e su tante altre questioni. Perché parlare una voce sola è semplice. Io non attivo le tv private, i canali 5, la 7 e quant'altro. Io sono pronto, insieme ai miei collaboratori, a spiegare ed affrontare la situazione in tutte le sedi che il sindaco vorrà. Quando sono andata a sapere della situazione abbiamo immediatamente predisposto una valutazione specialistica di questi pazienti con la dottoressa che sta nelle cure intermedie, nell'ospedale di comunità di Cingoli, che insieme alla coordinatrice infermieristica è andata a verificare e a valutarli tutti. Poi ci siamo prodigati anche per aiutare, a segnalare, a cercare, tant'è che una delle infermiere L'infermiere che attualmente c'è presso la casa di riposo è stata indicata dalla coordinatrice che c'ho io ed è stata immediatamente contrattualizzata. Per cui è stata garantita subito un personale infermieristico e ho garantito la parte medica attraverso la collaborazione dei medici di medicina generale. Quello che al momento è la situazione irrisolvibile. Per un altro giorno stiamo ancora garantendo noi con personale infermieristico strappato ma con grande difficoltà anche dai reparti in questo momento. Però arriviamo fino a domani al momento con la copertura infermieristica. L'equivoco probabilmente nasce dalla paura che noi non fossimo in grado di fornire tutta l'assistenza possibile a quelle persone che erano ricoverate e che stanno ospiti di quella casa di riposo. Lo dimostra il fatto che a un certo punto il sindaco si è sentito in obbligo, probabilmente perché spaventato per non so per quali motivi, si è sentito nell'obbligo di chiamare il 118 e ricoverare tutti i pazienti dalla mattina alla sera. Come dicevo prima, va valutata la situazione clinica e in base a quella va definito il setting assistenziale più appropriato. Se è da ricovero va ricoverato, ma se è da seguire in una struttura diversa da quella che è la casa di riposo, andrà in una struttura diversa. Se è seguibile all'interno della casa di riposo, viene seguito lì dentro con il personale d'assistenza, ognuno per la parte sua ovviamente. Fermo restando che sono pazienti comunque fragili questa della casa di riposo e anche spostarli d'amblè da un loro ambiente abituale porta a rischi ulteriori rispetto a quel di dare assistenza adeguata nel posto dove sono.